Delegato della Femmica, mi si nome e cognome? Sì, Giuseppe Anaclerio della Femmica Cis di Bari. Giuseppe, giovani al lavoro, cosa deve fare il sindacato? Sicuramente impegnarsi di più per cercare di sostenere questi giovani per un futuro di entrata nel mondo del lavoro. L'impegno deve essere quello di cercare di costruire una sinergia con le aziende, cercando magari di dare possibilità anche a creazioni di stage portate proprio a conoscere il mondo del lavoro. Come guidare le trasformazioni nel mondo del lavoro? Guidarle nel senso che bisognerebbe cercare di instaurare un rapporto diretto a queste entrate da parte di questi giovani nel mondo del lavoro con dei stage che possono quantomeno far capire a questi giovani la differenza anche magari dal mondo della scuola al mondo del lavoro. Difficoltà e proposte per una società inclusiva? Sicuramente le difficoltà sono tante perché poi le aziende devono essere anche disponibili a questo tipo di approccio. Le proposte possono essere, magari bisogna già essere aperti a quello che può essere un futuro diverso che se si creano queste sinergie, secondo mio parere, possono essere più che positive. Imma Fortuna, delegato FPC Sbari. Giovani nel lavoro, cosa deve fare il sindacato? Il sindacato deve essere uno strumento importantissimo per i giovani. In questo momento di grande crisi economica nel mondo del lavoro deve essere un sindacato di prossimità alle problematiche prevedendo un turnover in ampi settori, io come FP, quindi nel pubblico impiego riguardando un po' la riforma pensionistica affinché ci si dia più possibilità di assunzioni e spazio ai giovani attraverso un percorso di formazione dei giovani, attraverso una serie di iniziative che avvicinino al mondo del lavoro concretamente con degli strumenti idonei a essere pronti a entrare in questi sistemi lavorativi un po' ferruginosi. Quindi una forma di svecchiamento della pubblica amministrazione con un rimpinguamento di energie nuove che solo dai giovani possono arrivare. Come invece guidare le trasformazioni nel mondo del lavoro? Siamo nel mondo del digitale, siamo nel mondo dell'informazione e della comunicazione quindi un sindacato deve agire attraverso lo strumento della comunicazione efficace deve essere praticamente attento al bisogno del cittadino accostandosi il più vicino alle sue esigenze per cui attraverso un sistema peculiare di informazione che avviene attraverso una serie di canali dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione che ci consente appunto l'accostamento ai servizi in maniera più semplice e meno complessa attraverso dei canali informativi, televisivi, giornalistici, quello che sia in modo da essere tutti coscienti e costantemente consapevoli della trasformazione portando a conoscenza appunto i cittadini e in questo periodo particolare i giovani di quanto possa avvenire un cambiamento attraverso dei nuovi know-how che solo loro ci possono portare perché abbiamo dei giovani capaci che costruiscono praticamente il loro futuro attraverso studi, attraverso l'accostamento a nuove strategie di lavoro e che dovrebbero scendere più presto in campo per dare appunto un ricambio generazionale e di energie nel mondo del lavoro e anche nel pubblico impiego Giuseppe Savino, buongiorno Buongiorno Giuseppe Savino, delegato FIMCISL del Nuovo Opinione Bari Aspetta, ci faccio la domanda Giovani al lavoro, cosa deve fare il sindacato? Bene, il sindacato si trova di fronte a una grande trasformazione si parla di Industri 4.0, ci troviamo di fronte a una grande trasformazione per quanto concerne i giovani ritengo opportuno e dovoroso che la FIB debba svolgere un ruolo davvero strategico come locomotiva e gancio di traino per queste trasformazioni nel mettere in atto quelle regole, quelle leggi che già abbiamo quindi parlo di alternanza scuola-lavoro nell'ultimi dati, in mio possesso, in possesso anche ovviamente di quelli che sono le statistiche medie abbiamo che nel 2015 solo un'azienda su 10 ha avuto la possibilità di portare dentro dei giovani nel 2016 si era previsto un incremento del 10% ma non bisogna mollare quindi se il trend è ad aumentare quindi il ruolo del sindacato è quello anche di spingere fare accordi anche di programma con le regioni e non solo anche con le università per poter dare la possibilità ai nuovi giovani neolaureati o tirocinanti diplomati nell'inserimento del mondo del lavoro ecco il ruolo principale della FIB che sicuramente secondo me potrà svolgere un ruolo da protagonista Come guardare le trasformazioni nel mondo del lavoro? Confrontarsi quotidianamente con questo mondo globalizzato non avere nessun tipo di problema ideologico nel portare avanti quelle che sono le trasformazioni secondo me francamente penso che il sindacato non è più l'antagonista il sindacato e la FIM si deve sedere allo stesso tavolo io mi auguro non più un tavolo fatto rettangolare ma un tavolo rotondo dove anche il sindacato può entrare e discutere nel merito degli investimenti e del futuro dei giovani e dei lavoratori attuali Difficoltà proposte per una società inclusiva? Ecco l'inclusiveness lo dico in inglese l'inclusività è un qualcosa che non si tramanda ma è un qualcosa che secondo me coltiva un aspetto culturale anche se è un gioco di domande e quindi anche in questo concetto l'inclusività significa portare tutti on board portarli tutti dentro cercare in qualche maniera partire dalla base perché secondo me la base è la forza del sindacato che non deve sostituire la politica ma bensì deve accumunare, unire e portare avanti quello che è il mondo industriale fatto ovviamente e rapportato con una crisi attuale Grazie